sono tornato come il vitello buonasera ciao e volume 12 così ci piace buonasera ciao a tutti come state avete passato una buona domenica o sonno già come ogni domenica sera e ho anche mal di testa come quasi ogni domenica sera evviva ciao mannuxgamer24 fumetto uh tu sei un troll grande il tubo di scappamento alipods rustic culture sono il tuo preferito ne sono contento rocket lakun86 ciao anche a te ah che giornata orribile comunque mi consiglieresti un manga a caso così ti consiglio shaman king è un manga molto bello io lavoro come consuetudine che palle lavorare di domenica ciao giuma 90 tv bentornato vedo che hai una importante emoticon 14 mesi giuma grande se hai mal di testa vuol dire solo una cosa che i tuoi poteri psichici sopiti si stanno risvegliando quindi si risvegliano molto è vero fumetto è molto noioso per questo l'ho consigliato perché è noioso e non ho moltissime letture questa sera il che è positivo perché non voglio che questa live duri troppo perché sono stanco e ho mal di testa e comunque parleremo di quello che ho letto durante la settimana che è quasi tutto letto oggi no non è vero però 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 in ogni caso voi avete letto qualcosa di bello in settimana mentre aspettiamo che qualcuno si palesi riprendete che domani c'è la live su anteprima esatto è vero è vero e grazie a basketman per la sab buonasera sei mesi top e passo per un saluto che devo guidare bravo bravo no non c'è kingdom direi no dove lo vedi kingdom è rosso kingdom qual è l'ultimo fumetto che ti sei preso singolare tecnicamente che lo sia di land dog no non è vero è drago nero l'ultimo che ho preso tecnicamente perché dopo essere andato in fumetteria sono andato in edicola a prendere dire drago nero già quindi è l'ultimo numero di drago nero incidentalmente se andavo prima in edicola sarebbero stati i fumetti della star comics che ho preso dopo e io ho letto il secondo hoshino ko non l'ho ancora letto ho letto cioè l'ho iniziato e non so dove l'ho messo devo averlo appoggiato da qualche parte rientrando in casa ah invincible 3 non l'ho ancora preso invincible 3 è che sto ancora finendo di leggere il 2 in realtà quando ho finito di rileggermi il 2 mi compro il 3 ma dov'è la scatola di one piece ovviamente è qui eccola dobbiamo usarla per calappiare la gente mettiamola qua evviva aspettate riempio la chat la live di cose divertenti aspettate il mio umore ora è tutto molto più bello e ma dov'è la scarise ok ma il color book di invincible così accalappi il doppio della gente no quello no ciao un beletto volume degli avengers era di conscio no no l'era di conscio non l'ho letta nemmeno in spillato per ora ce l'ho lì e devo leggerlo ma king non lo possiedi tutto in cartaceo no lo l'ho anche in metallaceo è la parte più bello metallaceo e ciao metallaceo ma che palle leggo un sacco io ti odio ho appena detto che sono stanco e ho mal di testa e tu mi fai andare a prendere kingdom va bene non a capital tagliatevi tutti mentre aspettate c'è un ragazzo molto fortunato pieno di leggo con un bel leggo si chiama umberto ma per gli amici è pelati e fumetti tutti i giorni vi dice le cose nuove che escono e tutti i giorni vi dice le cose nuove come si fa a non volerli bene perché lui è pelati e fumetti ciao sono tornato e sono pelato come state è stato bello umberto ha un problema con amazon avevo ordinato un libro da colorare del film il gatto con gli stivali quando arrivato il banco ha scoperto se la copertina aveva il film mentre le pagine mostravano i personaggi di invisible da colorare che posso fare segnala questo orrendo problema ma come fai a tenere in casa tutti questi fumetti non voglio immaginare come sarà la casa le pareti saranno solo fumetti su fumetti ci sarà un labirinto grazie ultimate bar per l'abbonamento con prime se vuoi unirti al gruppo dei sub il bellissimo gruppo dei sub in cui solo gli utenti più belli intelligenti e dotati di questo canale si ritrovano punto esclamativo sub per entrare nel gruppo sub su telegram si effettivamente la casa è piena di pareti di fumetti ma dato che tu ti chiami fumetto dovresti esserne felice dovresti essere entusiasta dovresti invidiare tantissimo questa cosa hai scelto come nick fumetto cioè o meglio l'avresti scelto se tu non fossi solo un troll del cazzo ma ovviamente sei un grande fan del fumetto e quindi lo brami dentro di te in questo account creato tre giorni fa tra l'altro come no non è vero non è tre giorni fa oggi è il 15 13 giorni fa in realtà quello è solo un green screen Umberto odia i fumetti esatto non li legge esatto appena ci fa il video li butta nel camino no non è vero in realtà non sono veri nemmeno veri questi sono tutte illusioni ottiche ma sub la macchina esatto sub unitevi a me nel mondo dei sub anche dal tatto anche come ne parlano eh che bello kingdom vorrei recuperarlo mi piace tanto anche dal tatto ti piace il tatto di kingdom? il tatto di kingdom si ce l'ho firepower in inglese però i primi due volumi in inglese Umberto hai mai letto the goon di powell? alcune parti non tutto costava troppo e quindi non ce l'ho tutto e comunque dovevamo vedere questo fantastico kingdom kingdom di cosa parla questo kingdom? kingdom fondamentalmente è il racconto della guerra dei 500 anni che portò alla riunificazione della Cina in un unico impero il cosiddetto impero della dinastia quichin quinn quinn an bo non lo so come vedete vi ho portato il volume 50 non so che numero dovrebbe essere questa cosa ma non è il 50 ah si è il 50 boh ma quando è uscito il 50? era tipo l'ultimo numero che c'era in libreria ma non è l'ultimo no evidentemente non è l'ultimo credo no per il cazzo è l'ultimo credo forse sì non mi ricordo più ma forse sì boh comunque è quello dei disegni dei cavalli disegnati da Dio esatto esatto mai pensato di scrivere o disegnare fumetti? no porca vacca 50 numeri? sì 50 numeri forse anche di più in realtà non lo so aspetta che guardo su Amazon non mi ricordo se questo è davvero l'ultimo perché non ho visto se ne ho messi in comunque sì grossomodo e non è finito è in corso Kingdom 51 no non è vero è uscito il 51 non so che numero siamo in realtà in realtà non so dove siamo 52? vabbè non saranno molti di più Kingdom 52? è uscito anche il 52? no non è vero il 52 c'è il primo giugno quindi siamo al 51 ok sarà in giro da qualche parte metà di One Piece sì mannaggia me come si fa a entrare nel gruppo Telegram dei Sub? devi scrivere punto esclamativo Sub scrivi punto esclamativo Sub ti arriva un messaggio in privato e ci clicchi sopra e se hai Telegram ti dovrebbe portare sul canale Telegram qua ogni volume è un anno sono 500 anni fate un po' esatto esatto esattamente così e come vedete è un po' cambiato nel tempo perché quando è stata iniziata l'edizione era di GP e adesso è J-pop in realtà J-pop si è comprata GP a un certo punto tra l'altro è già bello rovinato in world vedete la qualità degli albi GP degli albi J-pop sta calando drasticamente che modo preparato che sei è vero è vero sei il mio modo preferito d'altronde dopo Manuel e dopo il Bojack perché mi fa ridere e dopo il Cavaliere Antonio perché mi fa arrabbiare insomma sei il mio quarto modo preferito no non è vero in realtà tu sei nell'Olimpo dei mod più belli questo è un problema per la disposizione delle costi è vero leggo un sacco è veramente un problema no non esiste più GP perché se l'hai comprata J-pop l'ho appena detto umbe ma perché il mio Krillin ha una stella in testa perché sei di livello 2 livello 2 il potere del livello 2 ti piace Kingdom no mi fa caccare però ho comprato 51 numeri perché sono scemo Kingdom e non parliamo di J-pop per carità utilizzano la carta da mente bianca che puoi leggere guarda questa qua era gialla questa è molto più gialla dal vivo e anche questa è bianca ma poi questa è la mentela della carta bianca no aspetta guarda che non dipende dalla quanto è bianca la carta è il fatto che puoi leggere quello che ho scritto due pagine dopo non dipende dal colore della carta ma proprio per niente ho letto che sta andando molto andando bene Kingdom lo stanno leggendo in mo io ho i miei dubbi fumetto però può essere chi lo può dire che bella carta giallina alta qualità si si è un po' migliorata ecco gli anni c'è anche un po' di polvere dentro però non è non è ingiallita è proprio gialla perché adesso voi lo vedete poco ma è proprio gialla anche dentro non è si sono ingialliti i bordi ti fa arpar eh si è un problema quando ti arpi per la carta è un bel problema si 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 sì che Cesare Dani è un bene ma evidentemente adesso inizio a capire perché la gente non vuole la carta bianca perché è convinto che la carta dipende cioè che sia bianca e quindi vedi attraverso ma non è così vedi attraverso perché è sottile o perché l'inchiostro è troppo pesante ma non è per il colore della carta se no la carta patinata è bianchissima e vedi attraverso ma invece no au au è male tutto comunque era un gran bel fumetto Kingdom potete notare l'incremento fantastico della capacità grafica dell'autore che all'inizio disegnava così e poi disegna quasi uguale in realtà era molto più shonen base all'inizio sembra Naruto cioè va grazie espressioni molto narutose dei personaggi invece poi ha raggiunto un decisamente molto più personale andando avanti oltre che più complesso e più dettagliato è una bella evoluzione per il tratto del personaggio cosa ne pensi della color di Naruto non penso niente della color di Naruto hai mangiato dagli troppo mangiato dagli zii sono tutto riempito Kagebushin no Jutsu no non è vero che evoluzione hanno avuto gli equini qua non c'erano gli equini cioè non li trovo nel primo volume non ci sono cavalli ah no aspetta qui c'è un cavallo beh oddio non era molto bello neanche qua però non sembra non era un cavallo formichiere era solo un cavallo brutto ma è un fumetto giapponese o cinese giapponese è una rivista Thailand fate i bravi non fate i casino però è ambientato in Cina infatti come puoi notare l'autore è Yasuisa Ara che è chiaramente un nome giapponese non cinese non si chiama Shichouza Chongkowu ciao il cinese mi piace molto esattamente quelli sì 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 invece lui è Eruisa Ara che è molto più giapponese come puoi notare dall'accento ti prego fammi un asmore veloce no fottiti ma quello è un fumetto sì vuoi rospi mutanti rospi mutanti ma anche un po' formichieri i fumetti cinesi li pubblicava la Jade ma li pubblicavano in realtà Giundo ha pubblicato un sacco di fumetti cinesi ho visto però a me sapete che proprio a livello politico il fumetto cinese soprattutto se è fumetto cinese non particolarmente no è giapponese hai rotto il cazzo il fumetto cinese se non è di quello proprio un po' insomma un'opera bella non ho tanta voglia di comprarlo quelli baoli compro perché sono tutte robe un po' particolari mi è capitato di comprarle però comprare fumetto di massa cinese non mi viene voglia lo trovo politicamente non il massimo della vita non so perché ma la cena non è che sia proprio il mio se posso evitare ma poi vogliamo parlare delle cose serie dei grandi drammi della vita il fatto che non arriverà mai più il fumetto con Putin che cavalca le cose in Italia se ci rendiamo conto che per colpa della Russia che ha invaso l'Ucraina non vedremo mai il bellissimo fumetto sul cavalcatore di animali io volevo vederlo ma è ovvio che non arriverà mai magari fra dieci anni se finisce la guerra maledetti russi ma vi pare che Jay può pubblicare un fumetto in copertina fondamentalmente c'è Putin muscoloso che cavalca animali ho i miei dubbi che lo facciano in questo momento ho i miei enormi dubbi e temo che non lo faranno neanche dopo perché sarebbe come pubblicare un fumetto il cui protagonista è Hitler ancora un po' cioè nella visione attuale delle cose non lo fai disegnano dei baffi su Putin potrebbe potrebbe si chiama libertà di stampa ma Naoto ma non è che non puoi farlo perché te lo vietano non lo fai perché non è elegante ed è un po' eh eh ma è stato disegnato da un giapponese ma è giapponese il fumetto mica è russo però capisci che mandare in fumetteria è una roba in cui c'è Putin che cavalca le cose in questo momento non è proprio ma vengono pubblicati in Italia fumetti indiani o di altri paesi asiatici che non siano giapponesi cinesi o coreani poca roba al basketman qualche cosina ogni tanto però no ma anche perché immagino che la produzione non sia così ampia non è che tutti i paesi hanno una forte cultura fumettistica hanno pubblicato di recente quello thailandese trese era thailandese mi pare sì l'ho visto adesso arriva datemi il tempo non lo fai perché magari la gente non ha voglia in questo momento di comprare fumetti con putti muscolosi in copertina esatto e quindi filippino è vero filippino i tedeschi non fanno fumetti è vero magari qualcuno li fanno però buh ce ne erano parecchi negli anni 90 ma perché costavano poco poi non ce ne erano parecchie perché erano case elettrici minori che volevano pubblicare manga ma i manga costavano di più e quindi pubblicavano i fumetti cinesi che non è quello che fa Giundo ciao Giundo vi voglio bene non so se il mio account funziona ancora nel caso darò un'occhiata ai vostri bellissimi fumetti cinesi e li recenserò per voi e fumetto preferito nessuno amore tutti i fumetti indistintamente ma perché non li leggo in realtà manga senpai pubblica così non mi pare c'è un manga in uno zoo o un acquario fatto dai norvegesi sì 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 ma morte bianca morte bianca è vero il mio fumetto preferito è morte bianca credo che c'era da Jade e per i sì sì ma da tutte queste case piccinine piccinò che facevano cosine così no un attimo che prendo un fumetto Firepower ok pensavo fosse Firepunch per un attimo Firepower di Robert Kirkman e Chris Semney Semney bello Semney vorrei comprare il 3 però l'ho già letto in italiano perché me l'aveva mandato salda pressa in digitale per parlarne in live e quindi boh mi scazza un po' spenderci tot soldi per recuperarmelo dopo averlo già letto in Germania c'è Ralph Koenig ok conviene prenderlo riesce a farmi la domanda in modo un attimino più sensato in modo che ti possa rispondere cioè conviene in che senso economicamente boh nel senso è un bel fumetto di arti marziali e caruccio non mi dispiace affatto lo trovo divertente conviene prenderlo è sempre una domanda un po' che cosa vuol dire cioè no non conviene comprare fumetti sono un bene che non ha un gran un valore e che probabilmente boh anche questo fumetto è su Putin no è su dove lo vedi Putin c'è stick al massimo sono è un fumetto sui boh arti marziali l'ho trovato banale e noiosa cosa questo perché non capisci un cazzo ovviamente arti marziane Putin non è pelato vero e questo è uno dei suoi difetti innumerevoli tu hai trovato noioso firepunch ok va bene perché ancora possiamo dire banale ci può anche stare ma noioso non sarà mai pelato Putin essere pelati vorrebbe dire andrebbe in giro col parrucchino probabilmente non era quello di Putin che si potesse non è quello lì che si poteva non è potenza pelato è potere pelato simone se lo ci tengo abbiamo fatto anche l'emoticon apposta quindi preferirei che usaste le parole giuste perché le parole sono importanti e quindi potere pelato e Oblivion Song molto meglio vabbè è fantascienza sono due cose un po' diverse comunque era un altro quello l'avevo anche ordinato quello si poteva leggere su Amazon tipo mi sta piacendo molto Invincible volevo sapere se mi consiglieresti un fumetto simile ad Invincible no non c'è niente simile ad Invincible Invincible è bellissimo ed è un capolavoro quindi come Invincible è difficile poi dipende da cosa ti piace in Invincible magari dimmi cosa ti piace in Invincible e ti posso trovare qualcosa che aderisca da quel punto di vista il problema è che come alla fine Invincible è un fumetto di superiore molto standard come base però ho fatto molto bene e con la cosa positiva di non essere un vero fumetto seriale e quindi avere la possibilità di far crescere i personaggi farli cambiare eh Savage Dragon sì sono d'accordo Calvino anche se non è a quei livelli lì ed è un po' meno mainstream la cosa molto positiva di Invincible è che è molto mainstream in realtà per quanto sia molto bello nel senso che è una lettura semplice non è che Kirkman faccia chissà che cosa di strambo l'arsen su Savage Dragon lo fa ci sono dei numeri che sono quasi dei porno e mi dici no Mario Ruggero non ti dico tre absolute da avere secondo i miei gusti perché è una stronzata i fumetti non si comprano perché sono absolute ma poi che cazzo ne so non ho la lista degli absolute a memoria dovreste sinceramente liberarvi da queste stronzate da oh devi comprare l'edizione allora l'edizione è fighissima va bene se ti piace il fumetto ti piace quel fumetto lì e quindi compri l'edizione è fighissima ma non è bello perché a parte gli omni di bussiglia absolute no ma e i must have ah i must have sono un altro discorso perché sono un formato che ti conviene perché costa poco però anche lì non è il must have è il fumetto che c'è dentro al must have non è che uno compra il must have perché è un must have spero per avere la collezione completa ma i must have sono dei banalissimi volumi sono il volume ahimai veramente facciamo una live insieme una volta al mese Simone Sb sono stato anche nella sua maratona con con sto scendendo dalla sedia con Ema per cui sì ci ho pensato e lo faccio anzi ora gli mando un messaggio non mi ricordo come comunico con Ema su Instagram sì vabbè comunque Absoli sicuro numero speciale di X-Force giusto sì esatto recuperate la live bellissima che ho fatto ieri a metà ci sono anche io che vi insulto di brutto perché mi avete rotto il cazzo è stata una bella live era ieri l'altro ok Capcomics dice benissimo è molto contento del fatto che tu pensi che noi dobbiamo collaborare lo faremo sicuramente però non l'abbiamo fatto questo mese ma mese scorso non lo so ho perso il filo io non capisco più un cazzo la mia mente se ne sta lentamente andando verso l'infinito e oltre hai preso il cartonato di Tori il re divoratore che va dall'1 al 6 no ho gli spillati e speravo lei editassi quella parte di insulti in post produzione non lo so Dario se c'ho voglia non la edito su Twitch cioè devo in realtà credo si possa fare anche dall'editor di Twitch però non l'ho ancora scaricata per cui cioè non l'ho ancora messa in video e poi scaricata per cui vediamo se riesco tolgo gli insulti giusto perché mi rompe il cazzo che la gente si debba beccare gli insulti mentre la guarda su Twitch su Youtube hai preso Zagor ombre sul gol no? sì mi ha obbligato leggo un sacco ora tocca a fine maggio giusto infatti è solo da dicembre che collaboriamo in franotarema ma non è mai successo mi fa male il collo vabbè comunque guardiamo i fumetti che ho letto questa settimana che fatica a vivere Timeless che bello ci ho fatto anche il video cosa prevedeva il pranzo domenicale di oggi cacca sì un sacco di cacca è stato molto brutto tutti regalati ovviamente uomini poco vestiti che viaggiano nel tempo con delle lance e combattono contro i mammuth Moon Knight questo l'ho preso questo no questo no questo no il fumetto di cui non sentivamo ma no invece era carino però non così fondamentale i disegni sono bellini la storia ci sta non è un capolavoro della vita ma funziona alla fine ci ho fatto un video andatevelo a guardare se avete voglia qui ci sono dei bei disegni sì e poi c'è anche Greg Land purtroppo poi cos'altro ho letto andiamo un po' così random esauriamo quelli di cui ho già fatto il video ho letto Dylan Dog e Dylan Dog Oldboy in realtà l'avevo già letto questo però vabbè era lì che girava è un numero singolo questo è un numero unico esce solo questo non uscirà più storia completa non ha un numero in copertina costava 5 euro e infine Dylan Dog è bello? è Dylan Dog certo che è bello se no non tromberebbe come un marsupiale in calore e invece come potete vedere anche qua si alza e c'è una tizia vicina a lui con cui ha dormito perché è Dylan Dog lui si accoppia ovunque molto bellini mi sono piaciuti molto i disegni di questo numero del nostro Luca Genovese la storia è un po' convulsa nel senso che è una roba molto metafumettistica stramba sulla scrittura non so se mi ha fatto impazzire però i disegni valgono la pena e poi alla fine va bene Dylan Dog quindi alla fine ti sei preso Shangri 2? no non si intitola così si intitola Shangri La Frontier 2 e si l'ho preso l'ho anche letto quanto testo eh lo so fumetto leggere è difficile però a volte serve pensa devo riandare a prendere Detective Conan ma vedo i mostri come Dylan Dog stranezza intorno a me osservo uomini dal cielo cadere golconda conigli rosa uccidono gente che scompare giorno male grazie alle poze per questa cibo chi fatica a leggere fa molto male agli occhi si poi diventi anche stupido perché fai fatica ti si scioglie il cervello ti esce dal nano non leggete mai fa male andate a giocare alle slot e invece questo numero del old boy è strano nel senso che la prima storia è abbastanza strana ma standard nel senso che tante citazioni cinematografiche cose bizzarre un look visivo comunque abbastanza classico e un po' meno classica invece è la seconda storia dove ci sono tavole tipo questa diciamo che questo non è il Dylan Dog più standard del mondo c'è anche ET con tre O è tanto strano tipo questa parte così e io mi immagino quelli dell'old boy che dicono ma cos'è questa roba non è il mio Dylan nooo leggo un sacco e questa è la reazione giusto? facci sapere il vero Dylan Dog vero ma non è il vero Dylan Dog guardalo ti sembra il vero Dylan Dog questo? questo? parliamone poi abbiamo cose tipo un bel recuperino che mi sono fatto è uscito un po' di settimane fa ma ho finalmente letto nel suolo di giungito mamma mia che incubo ho ancora il video che mi hai pubblicato oggi non ho ancora visto il video immagino questo volume di giungito è più giungitoso del solito nel senso che la maggior parte delle storie non ha un finale e rimane tutto lì un po' appeso ma molto più del solito cioè tipo eh eh troppo horror per me eh lo so troppo horror per te ma in realtà è molto strambo giungito è figo io lo trovo molto divertente a me questo tipo di horror piace a me non piace l'horror quello di tensione quello del oh mio dio il jump scare che non serve a un cazzo questa roba è così ma l'horror psicologico o della stranezza mi piace è figo e bel volume sono tutti bellini in realtà se non avete mai provato giungito provatelo perché secondo me ne va la pena è tutto strano ci sono le cose che succedono eh Dario leggi l'ho giungito non lo so qual è la mia opera preferita anche perché Ito scrive per lo più racconti per cui è difficile lo so anch'io che il jump scare nei fumetti non funziona ed è per questo che mi piacciono i fumetti horror non mi dispiacciono mentre i film non credo ci sia il manga di Blair Witch Project però che ne so può anche esserci è molto molto fico devo dire un gran bel film comunque questo ve lo consiglio se non avete letto niente però ce ne sono mille per cui è uguale alla fine tutti questi volumi qua sono volumi autoconclusivi cioè di storie non sono volumi non sono autoconclusivi è più che autoconclusivo cioè questo qua sono racconti e la maggior parte tutti quelli che hanno nel suolo e altre storie sono volumi di racconti per cui potete comprare quello che vi piace sfogliatelo vedete se vi se vi ispira e va bene così poi in realtà credo che sarebbe da copire cioè alcuni sono effettivamente storie più lunghe però la maggior parte sono così eh fallo Dario perché se non hai mai letto nulla vale la pena magari gli do anche un'occhiata se vuoi comunque se trovi Tomie è uno dei più piacevoli Dore Dora è un horror non lo so non l'ho letto Dore Dora quanto costano 16 però sono comunque 400 pagine questo qui ci sta ed è in grande formato con solo la coperta insomma vale la pena e poi recuperone recuperone fondamentale ho comprato il primo numero di Sunken Rock di Boici e caruccio non è che sia sta roba fondamentale però disegni molto belli donne molto nude come sombra però è figo graficamente divertente sembra un po' una roba due come noi ma più grandi ci sono le botte trama ce n'è poca la trama è lui sono tanti i numeri su Unken Rock non lo so quanti sono in tutto cercatelo su Amazon Tony Stark ha fatto anche cose buone One Piece di Boici cos'è One Piece di Boici e grazie a Tarkin Peterotto per il follow benvenuto non so cosa sia One Piece di Boici uno speciale non ho idea in ogni caso il protagonista è lui che è un ragazzo innamorato di una sua compagna di classe che il giorno dopo parte e va in Corea per diventare una poliziotta allora lui si impegna lascia la scuola e si trasferisce anche lui in Corea per cercare di conquistarla ma ovviamente in Corea non riesce a diventare un poliziotto e fallisce in tutto quello che vuole fare e alla fine entra in una sorta di banda mafiosa coreana che però è una banda di sfigati e quindi è un po' commedia un po' botte e divertente alla fine ci sta se volete Boici è un Boici non maturissimo probabilmente perché comunque è di un po' di tempo fa questo qua è del 2006 però 16 anni fa ci sta cosa ne pensi di Spider-Man 2099 capolavoro assoluto se intendi quello degli anni 90 se intendi tutte le versioni successive no ma non è un adolescente in realtà credo sia cresciuto però non si capisce benissimo non c'è molta consecutio temporum nel senso che lui andava al liceo e è passato un anno non lo so ci avrà insomma sarà sui 18 insomma più o meno pensavo fosse una ristampa no è una ristampa dico il fumetto originale del 2006 in teoria hanno ristampato i primi numeri credo però il fumetto originale del 2006 quello recente era carino non ho tantissime cose di Boici qualche cosina sì ma non moltissime poi cos'altro abbiamo di bello vabbè il capolavoro assoluto il fumetto che tutti dovreste leggere il nuovo numero di Comi tante emozioni per la nostra Comi e quel coglione di Tadano evviva li hanno ristampati tutti ma non mi sembra che li abbiano ristampati tutti perché non sono tutti disponibili però si vede che Amazon non sono ancora arrivati non lo so più svogli è più escono fuori tette sì esatto esatto e adoro papà e mamma Comi troppa pucciosità ma tu sono tutti pucciosi personaggi tutti amiamo Comi ma Comi è davvero così bello? no è molto più bello di così viva Comi allora il concetto è sempre quello non vi piace Comi? è perché non avete un cuore siete dei mostri degli asociali dei sociopatici vergognatevi pentitevi amate Comi amate la vita e prenderai Dragon Ball Mega Ultimate di Zone sì voglio comprare il primo numero per dire a Star Comics che non serve a un cazzo ed è una stronzata ovviamente solo perché non me l'hanno mandato ma siamo quasi in pari con il Giappone sì quasi sì mi sa che erano tipo al 24 23 non lo so ban per chi non ama Comi esatto ma sì è un manga tenerelloso tenerelloso voglio chiedere alla Crusca se esiste la parola tenerelloso che è nata per descrivere il manga di Comi no vabbè semplicemente non l'ho mai letto pentiti leggilo non l'ho mai letto Comi leggiti pentiti e leggilo anche tu leggete tutti i Comi e ora vi fornirò il link per acquistare il primo volume questo perché sono un merdoso opportunista vediamo se c'è ancora disponibile il primo numero di Comi Comi 1 ebbene sì è disponibile su Amazon correte a comprare il primo numero di Comi perché ne avete bisogno eccolo è qui quando eri più giovane hai mai rubato un fumetto in fumetteria no perché non sono un ladro di merda puoi sfogliarlo un po' non lo so devo chiedere a Comi Comi posso sfogliarti un po' credo che voglia dire di sì vedete le persone che in realtà questo è Tadano quindi è un uomo poi c'è la tipa sensuale e poi c'è Comi guardate quanto è carina Comi oh 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 che carini come fa a rispondere che non riesce a parlare? me l'ha comunicato con lo sguardo e con il linguaggio del corpo ovviamente hai letto Uchukyodai? che cazzo è Uchukyodai? ah fratelli nello spazio si l'ho letto non tutto, però si cioè ce l'ho tutto ma sono un po' indietro però si, bello, mi piace divertente, carino, particolare ci sta ci ho impiegato un po' a ricordarmi qual era il titolo giapponese ha scritto sul quaderno e mi ha scritto ma poi cosa ho letto? ho letto anche Lanterna Verde è un manga con le ragazzine col pugno che continuo a piacermi ma c'è una cosa che non ho capito ma secondo voi queste due pantere che poi se ne vanno e poi ci sono due tizie erano loro? cioè hanno le antennine quindi sono tipo muta forma a me sembra evidente dai è evidente quindi si accoppia con i gattoni vecchio pervertito Lanterna Verde è un manga è un manga anche lui in fondo cosa vuol dire manga? fumetto sono tutti tutto è manga niente è manga manga vuol dire fumetto Lanterna Verde è un manga? che può dirlo? ho visto che hai letto San Kear Rock ma mi sono perso il tuo parere no è un sì però non è che sia almeno dal primo volume non è che sia sta roba fondamentale però è piacevole non so se vado avanti magari sì pian pianino poi si esaurisce di nuovo non lo finiamo mai tutti i comics i manga non esistono il manga di Lanterna Verde parla di energia pulita? no perché è verde dici? e comunque Bubastis sì un po' ci assomiglia però è un po' più sono un po' più e poi secondo me ribadisco sono questi due tipi qua cioè perché si stanno rivestendo dopo l'amore certo anche Zagor è un manga beh allora se Zagor fosse pubblicato in Giappone lo chiamerebbero manga non è che non so se è pubblicato in Giappone Zagor però ma passiamo al fumetto che tutti amiamo di più il manga più bello in assoluto quello che ci fa battere il cuore davvero 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 non lo so a fumetto cosa dici di controllare sul sito panini cioè non mi alzo apposta per controllare quanto costa Devil's Reign cioè te lo spiego te lo rivelo hai internet c'è una cosa chiamata Google che è un servizio che ti fa scoprire le cose pensa un po' ma posso dirlo che Friaren continuo io è la gente che mi scrive eh no non hai capito ciao Giotaro se sei 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 no fumetto è che tu probabilmente io no no devi capire che Friaren analizza le emozioni dei protagonisti ora stanno partecipando a un gioco di a un test di magia tra l'altro è diventato praticamente un uno shonen bruttino è un fantasy basket quindi lo leggo ma no non è vero che stanno analizzando che ci sono i sentimenti dei protagonisti sì cioè ci sono come ci sono in tutti i fumetti ma staticità non è brutto è tra l'altro è passabile però no cioè non è il capolavoro mio dio è emozionante no ma quanti testi dove cioè se sei analfabeta dillo fumetto cioè madonna non sono così tanti testi sono due parole comunque adesso ho il fumetto per te aspetta appena finisco di parlare di Friaren preghiamoci con le copertine sotto copertine no io lo continuo perché è un fantasy alla fine mi divertono i fantasy però lo leggo proprio come lettura fantasy xxx senza particolari cose poi i disegni non sono neanche brutti il problema è che sono statici tanto e boh non so dove ci porterà tipo questo numero qua è senza senso ma un enorme marketing no ma la gente che dice oh mio dio wow se il primo numero ha cambiato tra lettore è una lettura piacevole fantasy sì sì però non è neanche tutta sta roba è carino però a te che sei l'unica complice di questa tua staticità staticità vabbè comunque ora ho il fumetto per fumetto Hulk oh è bello i disegni sono fighissimi ma l'ho letto letteralmente in due minuti cage numero 8 è un ottimo shonen battle base 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 che potrebbe essere uscito 15 anni fa grazie leolook 1106 ovvero non hai mai letto un battle shonen non conosci Naruto non sai cos'è One Piece Dragon Ball è chi è un capolavoro cage numero 8 probabilmente il problema è se hai letto tutta questa roba e leggi cage numero 8 e dici ok more of the same non è brutto però non è nemmeno niente di così boh cioè se non hai mai letto niente Ken chi Ken il guerriero è parente di la lux warrior scusa dicevo in realtà ci sono dei testi ma l'ho letto letteralmente in 4 minuti è bellissimo cioè i disegni sono incredibili ma si legge di una velocità che non ha senso cioè è proprio questo qua sarebbe da leggere in volume perché madonna cioè è talmente il volume lo leggi in 10 minuti il volume di 6 episodi così lo leggi in 1 poi è bellissimo però è veramente troppo veloce cioè sono arrivato alla fine ho detto ma com'è è già finito eh sì è già finito eh non credo sia appena uscito in giappone in america in giappone in america il sesto per cui no probabilmente uscirà a fare un anno e mezzo come al solito eeeh oh questo numero di Venom mi è piaciuto stranamente cioè non si capisce un po' un cazzo però mi è piaciuto mette un po' di pepe almeno cose cosa succederà come mai si capisce un po' un cazzo però quantomeno costano tutti 3 euro fumetto di che cazzo parli cioè qualsiasi comics americano costa 3 euro sì fumetto anche Hulk è 3 euro costano tutti 3 euro gli spillati costano tutti 3 euro da 2 anni 2 anni e 5 euro se sono 2 episodi questo è 1 e quindi costa 3 e no non lo so non ricordo cioè 2 anni che costa così 2 anni 2 episodi 5 euro a volte 6 dipende dal numero di pagine o meglio 24 32 pagine 3 euro 48 56 no 48 5 56 64 6 e poi si sale ma io ho pagato lo spillato di spiderman a 5 euro il primo beyond sì lo spillato di spiderman ha 48 pagine e quindi costa 5 euro questo ne ha 32 e quindi costa 3 euro quindi costa di più questo in realtà no costano ancora di più quelle americane una volta ne avevo 80 e costava meno sì esatto Serge Serge comunque bello anche Venom mi è piaciuto belli disegni di VanVie e nel prossimo numero dovrebbe tornare Ewing meglio sì tra l'altro quelli americani la carta fa cacare sì eh questo è innegabile le nostre hanno le copertine per cui non si disintegrano ad esempio e qui potremmo tornare a parlare di bustine perché si usano le bustine nelle fumetterie americane ma non lo faremo non lo faremo eh le bustine dovete usarle anche in quelli italiani perché sono utilissime in futuro spareranno gli spillati e si passerà i cartonati secondo te ma secondo me sì prima o poi però vediamo io preferirei di gran lunga però oh 2 riscriveranvi e 3 Ewing e yuppididoo i comics americani è carta igienica ma tanto dopo gli americani li comprano poi in tp tra l'altro la variant figa di Devil's Rain è uscita in Italia ok e quanto è sottile la carta ma in che senso ah ok sul fatto che è carta igienica sì secondo te conviene tenere gli spillati non stanno senza bustine non ho nemmeno una bustine no ne ho di bustine in casa credo di averne tre di bustine semplicemente non servono a un cazzo le bustine sui comics come non servono sui manga dove servono servono in America dove dove in fumetteria sono fogli di carta da giornale e se non li mettono nelle bustine negli scaffali la terza persona che li sfoglia gli rimangono in mani le copertine al fumetto americano soprattutto quello odierno è plastificato fumetto te lo spiego perché non sono una testa di cazzo già è così non ha proprio senso le bustine per sta roba non ha proprio senso allora le bustine possono avere un senso se hai le variant quelle specifiche fatte in materiali strani che si rovinano molto col contatto può avere un senso ma su quelli normali tra l'altro non si va a parte che non invecchiano invecchiano uguale se tu hai la carta se li metti una nella bustina ma poi soprattutto spendi un sacco di soldi inutili sì Rocket Raccoon è un servizio inutile nato perché perché i lettori manga italiani purtroppo hanno questa mentalità del cazzo per cui devono tenere tutto imbustinato ma è l'assurdità di tenere le fumette cioè tenere le librerie piene di plastica perché così si spolvera meglio non ha senso grazie per la sabba non ha proprio senso i CCC sono un investimento giusto è vero si chiama no si chiama coglione fumetto non si chiama collezionista si chiama coglione spolvero di più e risparmi in bustine ma no allora dicono che è più facile spolverare sopra se hanno le bustine a parte che è uno spolvero sopra ma vabbè questa è una cosa mia ma è vero per carità però tra l'altro se sei davvero un collezionista dovresti anche aprire tutte le bustine e cambiarle ogni tot tu immagina quanti soldi spendi ci sono anche delle librerie con le tendine esatto se ti leggo un sacco ma non dimentichiamo che la bustina non ti ripara dai raggi solari e quindi collezioni americane da una vita qualche anno fa valeva la pena perché c'erano anni di distanza le pubblicazioni in età ah sì no quello sicuramente secondo me i danni più grandi li fa la luce solare esatto che non ripari con la bustina ma uno va a chiudere la busta e non lo riapre più per mille anni perché è un coglione allora il fumetto dovresti vivertelo e poi perché dovresti metterlo in bustina e poi se non le riapri più è peggio perché non c'è ricambio d'aria e non fa bene alla carta perché si secca con l'eliminazione progressiva delle plastiche spariranno anche le bustine ma non esiste l'eliminazione della plastica Calvino questa è una stronzata la plastica è un ottimo materiale semplicemente va fatto un uso più intelligente della plastica ma non sparirà mai la plastica ci saranno plastiche migliori ma non è che sparisce è uno dei materiali più utili ed utili dell'universo per cui vedi un po' tu poi è ovvio che non ha senso usare ad esempio i sacchetti di plastica quando puoi usare dei sacchetti che continui a riutilizzare ad esempio ma tanto il fumetto lo si mette in bustina e poi non si apre più tanto vale buttarlo dopo la lettura esatto e la carta che sparisce esatto non lo sparisce la carta la carta ricresce vabbè beh è un genio Greninja ma suggerisce di comprarsi una stampante laser a colori e farsi direttamente delle costine cioè fa dei pannelli li mette lì e spende meno sono belli lo stesso dagli A esatto la carta si fa con gli alberi basta tagliarli poi li ripianti e sei a posto ma veniamo al momento giusto del momento ovvero la lettura di un fumetto in fondamentale ovvero Buddha e ora vi darò la risposta che leggere Buddha mi ha fornito sul fatto è vero che manca pagina finale non lo so non si capisce quindi boh potrebbe sì potrebbe non mancare potrebbe non mancare non lo sapremo mai sono solo pagine bianche perché c'è come in tutti gli altri volumi boh non lo sapremo mai probabilmente e gran bel fumetto Buddha ve lo consiglio a scatola chiusa se volete un fumetto di Tezuka da leggere Buddha è una gran 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 lettura ve la super consiglio fateci un pensierone perché davvero davvero bello tanti personaggi interessanti sacrificio storicità mamma mia ma a un certo punto si fa ricrescere i capelli però guardate qua a un certo punto gli tornano i capelli qua guardate vedete si rasava non era un vero pelato era un fake pelato Buddha e poi si fa anche questa strana pettinatura qua a un certo punto bello vorrei farlo anche io se avessi i capelli che ne pensi dello stile di Tezuka quale stile di Tezuka perché Tezuka non ha uno stile ne ha più di uno nel senso che cambia molto a seconda di cosa sta scrivendo ci sono opere molto molto mature e opere molto meno mature non mi sembra una buona idea il tubo di scappamento sai che questa cosa del quando finirà X lo recupererò è una pessima idea in generale a parte perché poi ti ritrovi a spendere una botta di soldi ma non aiuti il mercato cioè se c'è una cosa che vuoi comprala se no poi si arriva al punto che non vende e non viene finita intendo qui quello del suo periodo più maturo tipo i 3 Adolf è molto figo senza dubbio non è questo allora Bojack il collezionista di fumetti li legge cioè il collezionista vero di fumetti non è che non li legge non è un malato mentale come sono certi lettori certi collezionisti il collezionista di fumetti è un lettore di fumetti e li legge che schifo e non posso comprare e lo so però aspettare che finisce è peggio dovresti dare il tuo slot di tezuka mensile come faccio io cioè compro tutto quello che esce ma i fumetti si leggono no non ho detto questo ho detto che i collezionisti di fumetti li leggono io non mi espongo su questa cosa non sono interessato no questo è molto serio in realtà ci sono anche le battutine però il manga in sé è molto molto serio è molto molto tragico anche perché comunque è ambientato nell'India con le caste e ti racconta la storia di questo paese dove la gente muore di fame dove ci sono guerre i ricchi che si approfittano delle caste più inferiori insomma una roba tosta molto molto figo sì Bojack puoi leggere anche le variant pensa tanto le variant non valgono un cazzo per cui non cambia niente non è che se è mint vale se non è mint no la finice è finito Fortnite of Apocalypse 2 mi è piaciuto forse ma non l'avevo già visto non mi ricordo ma è molto figo devo dire che è un gran bel fumetto ve lo consiglio anche se non avete mai letto Seven Deadly Sins o sempre Shonen base 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 però per dire mi diverte più questo di mi ispira più questo di Kaiju numero 8 se devo essere sincero sia dal punto di vista grafico mi piace di più lo trovo più caruccio ed è comunque parecchio dettagliato non è male non è perfetto però non è male e la storia è simpatica poi tanto Shonen per Shonen però questo è un po' più avventuroso un po' più fantasy quindi mi piace di più però caruccio non fatevelo passare sotto i radar perché ci sta il manga più figo l'ho intravisto e credo lo stai per mostrare Shangri-La Frontier top Shangri-La Frontier oh ci ho rimasto solo Spider-Man Shangri-La Frontier a me sta piacendo parecchio è molto molto caruccio cioè per quanto sia una cagatona però è una cagatona ben disegnata divertente fantasy con dei bei disegni molto coreografato molto coreografico e sono anche curioso di sapere come andrà avanti la trama per cui non è male poi vabbè è la solita cagatona sui videogiochi virtuali però no Free Bojack madonna peccato per la testa di uccello ma è la sua particolarità e poi è una maschera anche se è animata è una maschera in realtà c'è il segno ma l'ho finito hai letto i primi numeri di xlife x death? sì non me ne esito parlare perché devo ancora fare il video i naip no non sono i naip per Sakamoto Days lo leggerò ma non sono i naip mi sa di una versione più mainstream dello Yakuza casalingo concordo con Sheva i prossimi due saranno decisivi sarà sempre la testa minestra in che cosa? ah kaiju ok ciao pelato mi sei simpatico ne sono felice Fabio Cristoforo è bello essere simpatici mi piace molto bello comunque e chiudiamo questa rassegna di letture con Amazon Spider-Man 85 o 794 siamo quasi all'800 italiano mancano solo 6 numeri quindi 3 mesi Sakamoto non so se compare il compare il grembiule no io non credo ma è l'allenatore chissà se ristamperanno superior Spider-Man non lo so è di slot quindi spero di no questo numero non mi è piaciuto molto sto un po' sto sto beyond non mi fa impazzire non è brutto si fa leggere però buh ho trovato anche un po' caricaturiale la figura di Otto e soprattutto a un certo punto c'è Otto che invade la cosa incontra prima un pesce parlante e poi dei panini parlanti dei panini parlanti c'è ancora il pesce parlante lo posso capire ma perché il pesce parlante ci poteva anche stare ma i panini parlanti what cioè poi siamo passati dal numero prima in cui avevamo la storia di Dylan Dog ambientata in spider nell'ospedale di Peter ai panini parlanti no non lo so alle pozze secondo me stava millantando per farsi salvare non ho idea non ha detto che avesse davvero dei poteri e poi vabbè c'è lui che pesta a sangue il povero Dococchi non sta facendo niente e vabbè segreti che si rivelano e vabbè e poi guarda un po' Bevelli è uno stronzo lo avevamo capito tutti ma tranne lui comunque beh però mi piace la prossima copertina la copertina è figa Benorelli c'ha i ragni lo scopriremo poteva averci sì effettivamente poteva averci hanno messo dei microfoni nei panini palese ok potrebbe anche essere posso richiedere un fumetto no sto staccando sono le 22.03 la mia live è concluso è uno è uno stronzo nel senso che è cattivo o stupido stupido è un povero stronzo mi fa male il collo e ho sonno a chi faccio un ride questa sera da Ellie andiamo da Ellie tanto non c'è nessuno in live ma non c'è nessuno in live va bene comunque vi ringrazio di essere stati qui in live scusate se non è lunghissima ma anche loro per il cazzo cioè potrò avere sonno quando c'ho sonno ma c'ho sonno c'ho sonno cosa hai fatto tu oggi io mi sono mosso tutto il giorno sono stanco fin qua mi sono alzato alle 7 per fare i video quindi sì vabbè ma non lo faccio a caverna tra l'altro c'ha 314 persone in live non c'ha bisogno dei miei ride caverna still potrò avere sonno quando mi pare avevo sonno anche due ore fa cos'è The Momo TV no se me lo consigli tu no oddio comunque è stato molto bello ciao fracd fracd polemiche pillo no grazie mi raccomando vai a Nina non farti la pelatone derven che fai l'al no 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 zero e va bene noi ci vediamo no mi è partito male il ride uffa aspettate mi è partita una U di troppo ok va bene ora è giusto ok va bene è stato molto molto bello fate i bravi leggete fumetti e non fate le cose strane brutte dalle persone brutte ciao potere pelato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti